Padula sempre più legata al suo concittadino più lusso e sui insegnamenti di legalità. Da sabato prossimo 9 marzo il comando della Polizia Municipale di Padula sarà intitolato a Gioe Petrosino, il poliziotto italo-americano prima vittima innocente della mafia che ucciso a Palermo è considerato in America un vero eroe ed in Italia viene ricordato per il suo sacrificio nella lotta alle mafie. A quasi 110 anni dall'omicidio di Gioe Petrosino il comune di Padula per ricordare il suo sacrificio ha deciso di intitolare un luogo di legalità al poliziotto nativo di Padula. Il 12 marzo a Palermo ogni anno si svolgono cerimonie di commemorazione a cui partecipa anche l'amministrazione comunale di Padula e l'associazione internazionale Gioe Petrosino. Ma prima della partenza Padula ricorderà il sacrificio del suo eroe dedicandogli il comando di Polizia Municipale in una cerimonia di commemorazione che avrà inizio alle ore 9.30 in via chiusa dove assiede il comando per la cerimonia di intitolazione a cui prenderanno parte autorità civili, militari e religiose oltre ad una delegazione della Joseph Petrosino Association in America e del New York Police Department. A seguire ci si sposterà presso la Casa Museo Gioe Petrosino per una visita dei luoghi che hanno visto i natali dell'illustre poliziotto. La delegazione di Padula partirà poi domenica in direzione Sicilia dove martedì 12 marzo in occasione dell'anniversario dell'omicidio di Gioe Petrosino presso la residenza universitaria in programma un incontro a cui prenderanno parte anche l'assessore alla cultura del comune di Padula Filomena Chiappardo e il presidente dell'associazione internazionale Gioe Petrosino Vincenzo Lamanna. In tale occasione dopo il convegno dedicato alla figura di Gioe Petrosino è previsto anche un momento di raccoglimento in Piazza Marina con la deposizione di una corona sul luogo dell'assassino di Gioe Petrosino e la scopertura di una lapide realizzata e donata da Pippo Made.